Era la prima volta che andavo all'ippodromo, intendiamoci, non sono uno scommettitore e infatti non lo faccio quasi mai. L'unica volta che andai a giocare alle corse scommisi su un cavallo chiamato mitraietta, quando tutti i cavalli scesero in pista, il mio mi accorse, aveva le rodelle. Ma nonostante questo c'è un non so che di seducente in me nella maniera in cui lancio i dadi. Infatti con le donne ho sempre avuto un certo successo. Insomma, me ne so lì al tavolo da gioco e sto lanciando i dadi, quando ecco che viene avanti una donna molto provocante e comincia a squirarmi dalla testa ai piedi. La porto in camera, mi tolgo gli occhiali, chiudo la porta, mi sbottono la camicia, si sbottono la camicia, le sorrido, mi sorride, mi tolgo la camicia, si toglie la camicia, le strizzo l'occhio, mi strizza all'occhio. Solo dopo il tonfo mi accorse che mi stavo guardando allo specchio. Non intendo scendere nei particolari, mi basti dire che per le successive due settimane seguitai a togliermi le scendere di cristallo le gambe.